Buongiorno, sono da qua ad augurarvi un buongiorno a tutti agli innamorati, a chi si è già svegliato già da un paio d'ore, e soprattutto buongiorno a quegli studenti che saranno impegnati in un'altra giornata sui libri. Buongiorno davvero a tutti, a studenti, innamorati, a chi è già a lavoro da un bel po' di ore. Buongiorno davvero davvero a tutti e a chi ascolterà questo messaggio, a chi starà prendere il caffè, buongiorno anche a te, buongiorno a quelle persone che non te l'hanno ancora augurato, buongiorno anche a te, perché te lo meriti come tutti noi, buongiorno ai ritratatari, a quelli che arrivano sempre in anticipo, buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli insegnanti, a tutte le categorie di lavoro che oggi staranno lavorando, buongiorno davvero a tutti, buongiorno, buongiorno e godetevi questa giornata di sole e soprattutto ai studenti, buongiorno anche a voi e resistete, finite di studiare e godetevi questa giornata, buongiorno davvero a tutti.